Rick Sanchez, un brillante scienziato ed inguaribile alcolista. Ho inventato il viaggio interdimensionale e cos'è alquanto bizzarre. Solo che non riesci a comportarti da persona normale, così hai lasciato la tua famiglia, per fare ecco qualunque cosa tu faccia, Rick. Mia figlia Beth incolpa sua madre per la mia mancanza e per i suoi stessi sbagli. Alla fine è diventata una chirurga solo di cavalli e si è incastrata in un matrimonio infelice con Jerry Smith. Insieme a quel patetico di mio genero, ha messo su famiglia. Prima hanno avuto Summer. E poi hanno avuto me, Marty. Con grande dispiacere per Jerry, sono tornato nella vita di Beth. E mi sono trasferito nel loro garage, cominciando a portare morti con me nelle mie disavventure, nell'universo sconfinato. Ho davvero un brutto presentimento, Rick. Unitevi a me, Rick, della dimensione C-137. E a me, Marty. In mostruose battaglie aliene. Rapporti sessuali con organismi strambi. Senza dimenticarci delle droghe intergalattiche, Marty. Con te tutto è possibile, Rick. Tranne i viaggi nel tempo. Perché sono stupidi. Wubblubdubdubdub. Ha ha! Oh, wiii, divertitevi! Sì, ok. Il video è finito. Forza, andatevene via. Sgommare!